Mi sono avvicinato al porto perché sono figlio di Portuale, nipote di Portuale, pronipote di Portuale. Quindi c'è stata una tradizione. Però io non mi sono avvicinato alla compagnia Portuale. Dopo gli studi e dopo un breve periodo con la sorveglianza, che era una casa di spedizioni, poi mi sono avvicinato e invece sono stato assunto, praticamente come occasionale, sono stato assunto dalla compagnia autonoma pesatori. Ora dovete sapere che storicamente la compagnia Portuale Pippo Rebagliati, in passato, passato, nell'immediato dopoguerra, era una compagnia unica e aveva tre categorie di lavoratori. Come hanno già detto altri, c'era il portuale al tiraggio, che era il personale che andava a bordo, i camali che andavano in terra e i pesatori che in allora effettivamente pesavano le merci, con le coffe. E con la stadera. Poi, mano a mano che c'è stata l'evoluzione, la merce che rimaneva anche, che era confezionata, servivano anche i conteggiatori dei colli, quindi specialmente per quanto riguarda la saccheria. E sono nati, ed è nata questa categoria, che era una categoria ausiliaria alla compagnia, e che completava il servizio che faceva la compagnia Portuale. In un passato invece un po' più recente, le compagnie si sono divise. I portuali, che erano molto corporativi, quindi molto ristretti, poi erano anche, nonostante che avessero una socialità molto rilevante, molto spesso litigavano anche, e specialmente quando c'erano interessi diversi. Gli interessi dei commessi non colimavano più con gli interessi delle due categorie e la compagnia si è divisa. E sono nate le due compagnie portuali, che poi negli anni Ottanta si sono nuovamente riunite, in modo particolare anche per affrontare quella, parlo degli ultimi anni, quella che era stata poi definita, è avere più forza per combattere, per combattere, tra virgolette, per adattare il servizio portuale anche alle rispondenze dalla legge 84-94, che è stata l'ultima legge della riforma portuale. Oggi mi pare che ci sia di nuovo un dibattito su questo tipo di legge. Qualche d'uno ha parlato prima di me di autonomie funzionali. Le autonomie funzionali sono state un tentativo del padronato per entrare nei porti. Sono sfociate dopo 40 anni però invece nei terminal e nelle società terminalistiche. C'è stato un breve periodo, molto importante, nella storia della portualità, dove c'è stata anche una partecipazione della compagnia portuale nell'ambito delle società terminalistiche. Quindi da esclusivi fornitori di mano d'opera si era anche diventati, tra virgolette, imprenditori. E questa esperienza secondo me è stata un'esperienza molto importante. Poi si è nuovamente persa perché il legislatore poi ha modificato nuovamente la legge e non ha permesso alle compagnie portuali di avere questo tipo di partecipazione perché il padronato, il cosiddetto padronato, aveva vinto un'altra battaglia, quindi sulla supremazia per la... e quindi è relegato la compagnia portuale al mero servizio. Oggi credo che ci sia un dibattito aperto su questo e io credo che il finale di questa politica dovrà essere quello invece di coinvolgere le compagnie portuali direttamente nell'ambito della gestione dei terminali anche con l'emissione di capitale perché così è stato fatto anche in un certo periodo di tempo e secondo me ha dato anche dei frutti particolari. È un'esperienza che ho vissuto perché gli ultimi anni della mia permanenza in porto ho avuto incarichi anche di responsabilità a livello dirigenziale quindi su questa partita ci abbiamo lavorato molto. Però questo è l'ultimo periodo. Vi dicevo che la mia esperienza proviene da un altro tipo di compagnia che aveva alcune differenze anche perché essendo più piccola eravamo più o meno il 10% della quantità della Pippo Rebagliati e quindi era più facile anche la gestione, era più facile l'avviamento delle chiamate. Allora si rispondeva a quattro chiamate giornaliere alle 8 del mattino, alle 10 del mattino, alle 2 del pomeriggio e alle 16 del pomeriggio. Era la massima disponibilità che potevano dare i portuari perché più di così non si poteva dare. E' vero che forse qualche soldo di più in busta paga c'era rispetto ad altre categorie di lavoratori però questo era dato dalla grande disponibilità. Il portuale non ha mai avuto una programmazione di orario. Il portuale era presente, c'erano le navi, c'erano le richieste e queste venivano sempre soddisfatte. Molto spesso negli ultimi anni parlo degli ultimi anni della mia vita e della mia attività negli ultimi anni addirittura dando delle prestazioni delle doppie prestazioni, triple prestazioni per soddisfare le esigenze delle varie chiamate alle navi. Io posso dire che sono stato abbastanza fortunato un po' perché come vi dicevo prima era stata un po' una tradizione anche di famiglia che si è conclusa come mio figlio fa dell'altro. Fortunatamente i miei mi hanno anche fatto studiare, mi hanno invitato a studiare quindi questo mi ha facilitato anche successivamente. Forse quando mi sono diplomato non avevo capito che questo era un buon tesoro. però dopo è servito per aprirmi la mente e quindi riuscire anche ad essere un po' più illuminato perché forse se ci fosse stata maggiore attenzione probabilmente la forza della compagnia portuale che era una forza molto importante non avrebbe avuto determinate conclusioni. Vi dicevo che sono stato abbastanza fortunato perché ho vissuto anche un'esperienza di cambiamento. Negli anni 73, 1973 è stato l'anno di nascita del terminal dei prodotti forestali. Insieme ad altri colleghi siamo stati poi chiamati ad altri sei, mi pare fossimo sei, sette siamo stati chiamati a riorganizzare il lavoro perché era cambiato completamente il condizionamento della merce. Savona prevalentemente oltre alla saccheria e quindi all'imbarco di riso, di farina anche perché era il porto più vicino alle provenienze della merce io parlo di imbarchi in questo caso e in periodi anche passati per quanto riguarda alcun cime la Montedison della Val Bormida era molto vicina al porto di Savona quindi il porto di Savona era importante perché se non altro c'era un vantaggio chilometrico. Poi per quanto riguarda le risaie il raggio di azione era intorno ai 100-120 km quindi Savona era prevalente poi Savona aveva una particolarità rispetto ad altri porti aveva assunto una grande capacità dei tedeschi sull'imbarco del riso il riso prevalentemente raggiungeva l'Indocina in quel periodo e quindi passava due volte non passava da Suez perché c'è stato anche il periodo vi ricorderete che c'è stato anche il periodo di Suez poi sono nate le navi più grandi e quindi non era più conveniente passare da Suez circondavigavano l'Africa per cui passavano due volte le quattro ore ora il riso ha una certa umidità e quindi la differenza di temperatura provocava praticamente il deterioramento del riso perché la quantità d'acqua provocava questa trasformazione negativa e Savona invece aveva una peculiarità che ha imparato dei tedeschi che è quella di fare tutte le canalette di areazione all'interno degli stivaggi all'interno delle stive e i savonesi erano in grado di farli senza le canalette di legno quindi con un risparmio solitamente si mettevano le canalette di legno perché erano una garanzia in più però i savonesi erano in grado di costruire mano a mano che stivavano i sacchi erano in grado di costruire queste canalette d'aria questi passaggi d'aria che contribuivano a mantenere la merce ed erano gli unici era un lavoro di grande fatica bisogna dire perché i sacchi li dovevano movimentare uno per uno a mano e stivare a volte con le spalle e raramente riuscivano a sfilare anche perché vi posso dire che i savonesi erano in grado di stivare a 50 una tonnellata a 50 cm3 quindi con una capacità di stivaggio perché io ho visto delle navi che erano state erano state caricate mezza Marsiglia e mezza Savona perché la società esportatrice che allora era la sull'est di Parigi aveva diviso il contratto metà Savona e metà Marsiglia quando arrivavano le navi da Marsiglia da Port-Saint-Louis era difficile riuscire a completare il carico di previsione perché i francesi sfilavano una volta che erano stati imbragati posavano l'imbragata nella stiva la sfilavano e quindi i saghi muovevano e non avevano quella peculiarità che c'era su Savona e quindi la merce si deteriorava e in più la capacità di stivaggio diminuiva perché non riuscivano a non avevano la capacità e l'esperienza dei savonesi l'altra linea importante su Savona era quella dei prodotti forestali parte che arrivavano dal Canada e arrivano tuttora dal Nord America e anche dagli Stati Uniti Pacifico ed era cellulosa e legname l'altra provenienza era quella finlandese e svedese ora vi dicevo che nel 1973 quando è nato c'è stata la trasformazione del confezionamento della merce la cellulosa arrivava a Savona in vale da 200-250 kg cada una sciolte praticamente erano distribuite nelle stive sciolte in quel periodo avevano cominciato a confezionare questo per sveltiere gli imbarchi e gli sbarchi l'avevano confezionata in pacchi da 6 o da 8 bale inizialmente erano da 6 poi successivamente l'hanno fatti anche da 8 bale quindi avevamo un peso di una tonnellata e 6 o due tonnellate addirittura e qualche d'una anche qualcosa di più e questo cosa prevedeva? prevedeva lo sbarco indiretto cioè lo sbarco dalla nave banchina, banchina, terminal e poi operazione di ricarico quindi ricarico sui camion questo è stato l'elemento di grande trasformazione di questi anni e Savona è stata in grado di affrontare di affrontare questo elemento di novità perché si è attrezzata sotto il profilo intellettuale perché voglio dire c'erano le persone che erano in grado di poter svolgere svolgere questo servizio organizzativo e in termini anche di macchine c'è stata una grande trasformazione e quindi una capacità da parte dei portuali di investire sulla tecnologia Savona è stata in grado in quegli anni di movimentare 500.000 tonnellate di cellulosa e circa 150-160.000 ora i numeri prendeteli un po' con beneficio di inventare perché qualche anno è passato io ho preso qualche anno e quindi sulla memoria ogni tanto qualche qualche defiance comunque riusciva a raggiungere addirittura il Veneto come raggio di azione come raggio di penetrazione cosa che oggi è diventata è diventata impossibile grazie grazie grazie